Buonasera e bentornati a una nuova edizione di TG Chrome, un guatto in piena regola, quello ricostruito dalla polizia che risale al maggio scorso quando un giovane indiano si presentò all'ospedale di Cremona con la pancia scorciata da una coltellata. Per quei fatti ora sono indagate cinque persone, tra queste anche un giovane che pochi mesi dopo ha ucciso un connazionale. Vediamo. Tentato omicidio, l'accusa con la quale è finito dietro le sbarre, un 27enne indiano accusato di aver preso parte al pestaggio avvenuto a Pieve San Giacomo il 27 maggio 2017, un episodio ancora non del tutto chiaro sul quale stanno indagando gli uomini della squadra mobile della Questura e che pare essere legato ad un giro di droga. I fatti per i quali lo straniero in carcere ed altri quattro connazionali sono indagati a una vittima, finiti in ospedale con la pancia scorciata da un fendente sferrato proprio dall'accusato e il corpo ricoperto di echimosi per calci e puni ricevuti durante quello che secondo gli inquirenti è stato un agguato in piena regola. La vittima era stata contattata da uno degli indagati e invitata ad un incontro che si è tenuto a Pieve San Giacomo, terra centrale rispetto alle residenze dei coinvolti che abitano tra il Cremonese, Brescia e Bergamo. Il ragazzo si è presentato con un amico ma i contendenti erano una ventina. Un pestaggio terminato nel sangue che poteva finire nella tragedia se l'indiano ferito non fosse stato prontamente soccorso dal compagno e portato in ospedale. È dal pronto soccorso che è partita la segnalazione alla polizia da cui l'indagine è durata quasi un anno e piuttosto complicata fatta di incroci di tabulati telefonici, ricerche di auto, analisi dei reperti ritrovati sul luogo dell'aggressione. Alla fine il gruppo degli assalitori è stato identificato, cinque persone, tutti indiani, uno dei quali già in carcere per l'omicidio di un altro connazionale avvenuto a settembre 2017 pochi mesi dopo la rissa di Pieve San Giacomo. Per tutti l'accusa è di tentato omicidio ma mentre tre restano a piedi libero per il quinto componente accusato di aver sferrato la coltellata è stata decisa la misura cautelare. Paura ieri sera all'ora di chiusura la torrefazione Dordoni, in azione un rapinatore che però è stato messo in fuga. Vediamo. Prima la paura poi il coraggio, un'alternanza di emozioni vissute in una manciata di secondi da Nerina Dordoni, 80 anni, titolare dell'omonima torrefazione di Via Mantua dove ieri un bandito ha cercato di portare via l'incasso. La rapina è andata male proprio per la pronta reazione dell'anziana e di una commessa che con spintoni urla e l'aiuto anche della fornaia che al negozio vicino sono riuscite a mettere in fuga il rapinatore, un uomo giovane dall'accento straniero arrivato e partito in sella ad una bicicletta. Tutto è avvenuto ieri sera alle 19.40, orario di chiusura del negozio. Il bandito, con il volto per metà coperto da un scalda collo nero e da un berretto con visiera, ha fatto irruzione dirigendosi subito al bancone dove si trovavano le due donne. L'uomo ha lanciato un liquido rossastro, una miscela di acqua e detersivo che ha irritato gli occhi e il volto delle vittime che però non si sono lasciate intimidire. Alle richieste di denaro le donne hanno fatto seguire la loro reazione. Spintonato più volte, il bandito ha scelto la via di fuga. Ora, sul caso, indagano i carabinieri. Nove anni è la richiesta di condanna avanzata dal PM nei confronti di Giuseppe Garioni, ex presidente del Torrazzo Calcio, accusato di violenza sessuale nei confronti dei minori. Nove anni di reclusione, questa è la pena che il PM Carlotta Bernardini ha richiesto durante l'udienza di rito abbreviato per Giuseppe Garioni, ex presidente della società di calcio il Torrazzo, accusato di violenza sessuale su minori. L'uomo, 55 anni, dipendente dell'amministrazione provinciale, secondo l'accusa sarebbe coinvolto in sei casi nei quali le vittime sono ragazzi giovanissimi, avvenuti tra il 2009 e il 2010, tra il 2015 e il 2016, anni in cui lo scandalo venne alla luce attraverso l'indagine della squadra mobile che rivelò come Garioni, da anni approfittando del suo ruolo, avrebbe riservato attenzioni particolari nei confronti dei giocatori. I fatti si sarebbero svolti in parte a casa dell'imputato e in parte negli spogliatoi del campo di calcio. Al momento Garioni, che si professa estraneo i fatti, sostiene che i suoi atteggiamenti siano stati fraintesi, è sottoposto al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione e di frequentare i luoghi di abituale ritrovo di minori. La sentenza è attesa per il 5 aprile. Un parcheggio da 180 posti dietro la curva sud Erminio Favalli dello stadio Zeni. La Giunta ha dato infatti la via libera alla proposta della Unione Sportiva Cremonese di realizzare uno spazio per le auto al posto del vecchio campetto di allenamento, ormai indoneo e inutilizzato da quando l'attività quotidiana è stata trasferita al centro sportivo Arvedi di via Postumia. Il parcheggio che verrà realizzato dalla società sportiva sarà messo a disposizione del personale di servizio dello stadio Zeni e degli addetti ai lavori. La società Grigiorossi inoltre allestirà nel nuovo parcheggio un apposito sportello destinato al ritiro degli accrediti del settore distinto in modo da snellire le code alla biglietterea di Piazzale Luzzara. Le notizie dall'Italia, paura tra Lombardia e Valle d'Aosta a causa di due boati causati da caccia militari decollati da Estrana in provincia di Treviso che hanno superato la barriera del suono in mattinata. I caccia sono decollati su allarme per intercettare un aereo di linea francese che aveva perso il controllo con gli enti del traffico aereo, il velivolo è stato raggiunto, il collegamento è stato ripristinato, i due caccia sono rientrati alla base. Il rumore simile a esplosioni ha fatto tremare i vetri delle case e uscire la gente per strada, in particolar modo a Bergamo via precauzionale, sono state evacuate alcune scuole e il Tribunale. I centralini dei Vigili del Fuoco, 118 e Forze dell'Ordine sono stati presi d'assalto per sapere cosa fosse accaduto per la Procura di Bergamo, competente a indagare sulla vicenda allo Stato e non si ravvisano reati a carico dei due pilota dei caccia. È stato imbrattato il monumento che ricorda le vittime dell'agguato di Via Fani quando 40 anni fa fu rapito dalle Brigatte Rosse il Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro sulla Stelle che ricorda i nomi dei 5 uomini della scorta dello statista uccisi dai terroristi è stata dipinta la sigla BR con il colore rosso. Sono in corso i rilievi dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, in particolare sulla vernice utilizzata. Al vaglio anche eventuali testimonianze e registrazioni di telecamere della zona che possono avere ripreso la scena. Le notizie dal mondo sono responsabili di quello che è accaduto. Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook negli Stati Uniti. Intanto scatta la prima class action contro le colossi in blu, mentre gli inserzionisti inglesi minacciano l'addio. È cominciata stamani l'evacuazione di miliziani e civili da uno dei soborghi della gutta orientale vicino a Damasco, secondo quanto riferito dalla TV panaraba al Mayadin vicino all'Iran. Le fonti sul terreno affermano che circa 1.500 miliziani di Harar Asha Sam, milizia sostenuta dalla Turchia, si sono arresi nelle ultime 48 ore alle forze russe e governative siriane che stamani hanno cominciato a lasciare Arasta nella parte occidentale della gutta assediata. Siamo alle notizie sportive, brilla la stella di Carolina Costner sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago dove sono in corso i mondiali di pattinaggio di figura. La 31enne di Ortizè in Val Gardena ha offerto una prestazione stellare chiudendo in vetta il programma corte superando per la prima volta in carriera il muro degli 80 punti. Sono stati resi noti i numeri di Magna dell'Italia che domani sera e martedì prossimo affronterà in amichevole l'Argentina a Manchester e l'Inghilterra a Londra. Nessun giocatore azzurro ha scelto il numero 13, quello che dall'inizio della sua carriera ha sempre indossato Davide Astori nei propri club e anche in nazionale. Un altro modo per omaggiare il capitano della Fiorentina, 14 presenze in azzurro e un gol è scomparso improvvisamente il 4 marzo scorso. Questa per ora è l'ultima notizia, l'appuntamento con TG Chrome torna domani. Buona serata a tutti.